Musica Violenza fra le mure domestiche a Licodia e Ubea. Protagonista di questo deprecabile gesto, un 65enne del posto del quale gli inquirenti, i carabinieri di Licodia e Ubea, non hanno fornito le generalità. I fatti si sarebbero consumati all'interno dell'abitazione della coppia. L'uomo, al culmine di una lite scoppiata per futili motivazioni, avrebbe percorso la moglie, peraltro gravemente malata. Nessun attenuante dunque per l'anziano che anzi ha peggiorato ulteriormente la situazione. Secondo la ricostruzione dei fatti compiuta dai carabinieri della locale stazione, la donna ha riportato qualche lieve ferita, l'acero contusa in alcune parti del corpo ed escoriazioni al collo. Le liti all'interno delle mura domestiche erano anche frequenti, motivo per cui, a seguito dell'ennesima segnalazione effettuata ai carabinieri, i militari sono così intervenuti ed ha accertato che la vittima subiva da tempo le reazioni incontrollate del coniuge. L'anziano, 65enne, che dovrà così rispondere di maltrattamenti in famiglia, è stato rinchiuso al caccere noce di Caltagirone per essere posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il tutto nonostante la manzata età.